Bella ragazzi, siamo su caos la leggenda, adesso vi facciamo vedere questo bruciatore che avevamo già fatto vedere un po' di video fa lo accendiamo ma questa volta regoleremo la miscela aria gas, magrissima di gas, con pochissimo gas e come vedrete continuerà a mantenere la combustione, una combustione appena appena percettibile e quasi fredda che io potrei tenerci un dito davanti, adesso la accendiamo normalmente e poi togliamo il gas man mano e adesso si vede appena pure, come vedete, io posso vedere, vedete l'aggiurro qua della piazza la fiamma giura io ce la prendo già nelle mani sto toccando la fiamma, scalga ma non tanto da far male, infatti è una fiamma, posso anche fare l'aggiurro che l'ho vista è una fiamma quasi fredda è una combustione incompleta, una fiamma quasi fredda che produce un po' di rumenta tipo aldeideformica come odore ma come avete visto ci si possono tenere le mani, adesso è spento bella ragazzi grazie 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 grazie